Stavo togliendo le batterie dalla svegliox Che sono scaricox Chi a me c'è Ringo? Eeeh Interception against... Ma il Tigrex so che... Nooo, l'ho portato mica la... Io si, l'ho portato Non vi preoccupate, vi faccio io Dove è la banca, come al solito, dai La banca, Riccardo La banca... E' diverso Oh, ha la veloce il Tigrex che poi Si torna Eeeh beh Che belle queste spazio Ma il martello del Tigrex fa veramente cagare Infatti ci sono rimasto, non pensavo Ma le pente non le prendete mai, raga? Io l'ho preso Io ce le do Io ce l'ho Cennò ci puoi andare dietro Io non ce l'ho raga, io nemmeno No, vi ricordate che avevo detto prendo la katana? Da buon bambino nero Mi ero buttato sul letto per salvare il gioco E mi son dimenticato al risveglio di equipaggiarmi Vabbè, va bene anche questa tanto Eh, vabbè, ma per uno un po' bello veloce, slanciato Ho detto, vabbè, con la katana sarà un po' più semplice E invece no Esatto Bisognerebbe farsi la katana effetto drago anche L'effetto drago, raga Eh, bella Si è bello Si è bello Sicuramente quella che ho d'occhiato io L'effetto drago Bisogna farsela Un po' più avanti Nella 9 non c'è Mi chiamano da nessuna parte No, e dove cazzo è? Non mi direi che è in qualche grotta bastarda Ho altre enorme Porca troia Sarà tipo nella 6 Che addirittura, guarda Che è un... È un verme È una O No, tipo Se fosse nella 3 E se fosse vero No, dai, sarà nella 7 Me lo sento, eh Come è la mia plate E nella... In realtà è nella nostra fase dentro il letto che dormo Troveremo la plate, magari No? Sì, raga, scaccato Tigrex plate Te c'è il cacchiato T'è il cacchiato C'è il cacchiato E nella 3 Arrivo Dai, dai, dai È vero Se ne sta volando via Ma stai scherzando? No Stai andando nella 4 Roba dai Chi era già arrivato alla 3 Lol Dai minchia è? Oooo non mi chiede grosso non ricordavo così grosso di struttur cristo vabbè io l'attacco si si è grosso vero che è grosso non è grosso non è che non te lo ricordare che è proprio grosso guarda che ti serino guarda che ti serino mi chiede tanto è l'ora del martellare caro poi è un po' togliamo i reno plus aspettate, aspettate fatelo girare guarda come sta meglio col martellox hai rotto il cazzo, testa di merda eh ma adesso inizia l'attaccare a babbo prega un cazzo dai mi hanno avuto interruzioni del porco dio siii siii più botte schiaffi come mi ha devastato a a a a a a a a carico di nuovo poco del suo alla r e me ne frega un cazzo giusto? a quello si toglie no mica cosa si è devastato cazzo avrò uno stronzo e che quanto toglie toglie veramente toglie un casino mi regge toglie veramente un portale però mi dà tanta rossa quindi non lo lascio recuperare col martello io ho bisogno di andarci in full vita dentro perché 100% e ti farò incazzare questi colpi oggi però un mix tra un'arga cunga un altro qualche volta è peggio del mar bo bo uuuu doppio cambia cambia la zona che non riesco ad avvicinare se andiamo adesso sulla dobbiamo to the face andiamo ora inizia i passi non voglio adere che ortica sei buono tigrotto qualcuno mi ha fatto volare inizio alipolo patisci o ma perché ma mi chiamo pure da o la rabbia storia di sedia oddio 8 posto raga gli mettiamo la pitfall nonostante nonostante il risparmio della classe compro di sono strabole efficienti perché si muove ma non troppo se basta stargli dietro un'attacco un'attacco ma io metto dietro l'albero vieni si ma la rege gli dura anni c'è sempre incazzato voglia con la cortina periodi la freg Caroline accoste se c'è ban il matematici inizia interpretando un'anno slide allora quindi accendere obrig la 6 devi stare non gli si può avvicinare perchè corre un buon si è rotto qualcosa ehi arretti tigre anche all'urlo è una potenza disumana chi ha tirato giù un masso con quella ragazzi metto una pitfall venite qua hai paura tigre x tento ai passi e mini testa di testo dei proiettili bravo bravo tutto si libera subito allora ho parlato vabbè vabbè una scarica nella mia data oh oh alla faccia segnata gli dovremmo andare alla quota per vestire con le cuffie se non è verifici non si è piuttosto che è stato segnato un po' con le scariche sta volando e cambiazzona se si decide di andare da qualche parte però ci fa anche un favore fatevi un cold drink ci ho fatto prima ah giusto è vero non mi avevano fatto le bene ora mettetegli la shock così gli massacriamo la coda non l'ho portata da bel deficiente solo io ce l'ho mettila mettila se se ce l'hai solo tu va bene la metto qua danni tipo mai fai finta di niente sta zitta non vuole far marmi non vuole spazzar qualcosa ok ci è stata tagliata ugualmente va bene è una persona che gli prova a spaccare le ali lo buttato per terra vai che è il collo che l'ha spadato bastardo ha fame eh fatelo venire sulla shock ragazzi che gliel'ho messa niente eh io ci sono dalla shock poi siete tutti lì conglomerati intorno madonna sto arrivando sto arrivando hai il fiatone? oh ma sta zoppicando si si mi sa che se ne scappa addio shock ma facciamo così tanti danni fermo qua facciamo così tanti danni addirittura che fichi eh io non credevo fossero così una merda le vie per mele Raul Akorn raga non l'avete scalcata la coda? si si cazzo è vero i grex sale ma dato a me è scale grande va nella scema molto più rara eh no i grex sale un po' mi ero un giorno fortunato ragazzi ma un po' troppo kiwi così richi no ma il bolo dici tu ok allora danny e io come siamo sprofessionali sprofessionali attento danny perchè adesso ci salvo al biavolo del show con le mani nude si deve fare dai vieni madonna cazzo tutto qui quello che sai fare tigrex mandiamo tutto qui tutto qui anche se ti prende con quella roba gli credo ti mandi all'inferno ieri ieri cazzone ma da tutto qui quello che sapevi fare chiama la merda comunque fa un sacco di danny ma non è mai stato un mostro che ha puntato tanto sulla resistenza ma gli abbiamo spaccato anche le unghie da il piedicchio tigrex scale ha mandato solo claw solo e le scale è buono e le claw comunque perchè sono più rare delle scale quindi raga quindi quindi tigrex c 0 0 0 0 0 0 0 0 un studio di un martello di real balletto ma affinità meno 25 ma non farlo scusa non fare il martello martello di ogni besti ox no no ma di lui mi farò sapone del tigrex è buono si ho visto che è carino non ha il malus all'affinità dai ratello sple y e dammi te la da te la da adesso te la da a me la ratello sple venga cosa tu ho disputo in bocca fang, clo, fang, armo sple fang, scale, scale, scella, fang si sembraria dei pezzi di merda fang, scale, clop clop di clop di clop guarda che era grosso con 1892 mhm